Sì, ma non sarei la specie, ma si arriva a me andate all'epoca, vuol dire che se il ritardo finisce con me, si fa iniziare a 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 me, adesso cosa ci voleva dire, c'è un ritardo di 5 minuti, ha iniziato la gente, c'è una cosa che non sopporta, guardate c'è un ritardo di 5 minuti, c'è un ritardo di parli, c'è un ritardo di 6 minuti, è un ritardo di 5 minuti, c'è un ritardo di C'era un mio compagno che ha diventato scolenza e diceva che a Milano no, a Milano no, a Milano no, a Roma, a Napoli, ho sentito, ma non lo so se anche io, a Milano, loro dicevano Milano, forse comunque a parte di Milano, diceva sopra, e venerdì c'è sopra oltre, però però è suori, nel mio seguito, ma lei sai nel senso, ma non c'era sopra, ma non c'era una cosa, ma non c'era a parte di Milano, ma oggi è anche che si abbia ragione a me, se non si lavora ma in Italia va avanti, non è niente, perché uno va a comprare, non so, il treno, la macchina, la bicicletta, vada a bicicletta e ci piega un giorno, e questi ci piegheranno una settimana e gli altri, loro non avevano da mangiare, sono diventati i primi amori, con il lavoro, con il lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.